Salve amici di Textilla, ci troviamo qui oggi per effettuare uno dei primi unboxing italiani del nuovo MacBook Air targato Apple. Io ho effettuato l'acquisto utilizzando il mio buono sconto studenti e di conseguenza mi hanno regalato anche una trance card da 75 euro. Andiamo a effettuare l'apertura della scatola. Questo è il MacBook Air da 11 pollici con 4 giga di ram e 128 giga di hard disk, naturalmente è stato solido. La scatola è sempre piuttosto semplice con il MacBook Air posto su uno sfondo tutto nero. Andiamo a effettuare l'apertura. Il MacBook Air occupa la maggior parte della confezione. È presente anche il caricabatterie con il cavetto e il nuovo attacco MagSafe che è stato introdotto negli ultimi tempi e nei nuovi portatili Apple. Abbiamo poi il contenitore con le istruzioni, la guida rapida e anche la garanzia, come potete vedere. E abbiamo anche la prolunga sempre per il caricabatterie. Andiamo a effettuare l'accensione del nuovo Mac. Eccolo. Molto leggero. Scendiamo. Naturalmente la prima accensione è più lenta. Ecco che abbiamo il caricamento con il logo Apple. Dovrebbe partire Mac OS X Lion già preinstallato su questi nuovi dispositivi. Aspettiamo un attimo. Eccola qui. La schermata di benvenuto in cui si devono scegliere varie lingue. Ora avremo del tempo per recensirlo, per avere una recensione più approfondita. Ringraziamo tutti i nostri amici di Techzilla per averci seguito.